Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, un bene che in Calabria purtroppo diventa sempre più scarso e ce ne accorgiamo ogni volta che apriamo i nostri rubinetti. A livello nazionale si disperde il 36% dell'acqua. In Calabria si passa dal 51% di Vibo Valencia al 46% di Crotone e Cosenza. Perdere quasi la metà dell'acqua immessa nelle tubazioni non è decisamente un successo. Un allarme che arriva anche da Lega Ambiente, che sottolinea come si sia arrivati ad un sovrasfruttamento delle falde acquifere e come le stesse falde siano sottoposte anche ad un continuo processo di inquinamento. È poi importante che l'acqua sia sempre disponibile per tutti, essendo un bene vitale e per questo dovrebbe essere pubblica, non soggetta a controlli di società private che potrebbero innalzarne il costo oltre ogni misura.